E dopo i pronostici per l'Open ecco i pronostici per il Classic Zik, solo che qui a differenza della Open non farò una Top 10 perché è una categoria molto variabile, ogni anno non ci sono mai gli stessi Top 10 e quindi ogni anno non si sa mai come andrà a finire. Quindi ho pensato invece di fare una Top 10 farò una Top 5 con i primi 5 e qualche menzione onorevole con 3 atleti che penso che a quest'Olimpia faranno molto bene e che potrebbero essere le rivelazioni di questa categoria. Come prima menzione onorevole metto Carlos Domar, è venezuelano, atleta che effetterò il suo debutto al Mistro Olimpia, si era qualificato anche l'anno scorso, se vi ricordate aveva gareggiato anche contro Lele Ricotti al Puerto Rico Pro l'anno scorso, lì aveva vinto Lele e Carlos era arrivato secondo, poi però Carlos ha vinto un Pro Show e si era qualificato all'Olimpia ma non l'ha gareggiato, ha fatto il Tampa Pro quest'anno dove è arrivato secondo e poi ha fatto l'Atlanta Pro, un'altra gara dove è arrivato primo e quindi si è qualificato per questo Mistro Olimpia. Carlos a me come atleta piace veramente un sacco, appena lo vedi ti colpisce subito. Sul palco ha tantissima sicurezza, è molto confident e infatti ha un posing veramente eccezionale, non trema, non ha spanciamenti, non suda, ha veramente un ottimo posing ed ha veramente anche un ottimo fisico. Super completo, condizione perfetta, stratosferica, ha pochissimi punti deboli, forse non è super largo, i dorsali potrebbero essere un pelino un po' più larghi, un po' più grossi, però per il resto è un atleta super valido. Gambe ottime, proporzioni anche queste buone, schiena buona, quindi è veramente un atleta molto molto valido e secondo me a questo Olimpia potrebbe entrare molto probabilmente in top 10. Un'altra new entry è Diego Galindo dalla Colombia, ve ne avevo già parlato qua e là ogni tanto negli ultimi anni. Secondo me quest'atleta ha un potenziale altissimo e tra l'altro è super giovane, mi pare che abbia 22 anni al massimo, non di più e come fisico è veramente strepitoso, una struttura perfetta con una vita molto stretta, ottime proporzioni. Non è ancora al massimo per quanto riguarda lo sviluppo muscolare, cioè non è molto grosso, secondo me gli servono ancora un po' di chili per riempire tutti i buchi, per ora ha ancora dei buchi da riempire, specialmente su front. Su side e di back meno, ma sul front ha un po' di buchi da riempire. Però per quanto riguarda i distretti muscolari, la durezza muscolare e la qualità è molto buono, vita certissima ripeto, braccia buone, dorsali buoni, crea un buon effetto a V che potrebbe essere ovviamente più largo, gambe buone che anche quelle potrebbero essere più grosse. Di back è dove veramente riesce a sorprendere tutti perché ha una schiena fantastica con un ottimo spessore muscolare, un'ottima completezza e inoltre ha anche una condizione eccezionale, sia sul front che di back che di side. E in più anche lui come Carlos posa veramente molto bene e per un classic il posing perfetto secondo me è fondamentale. Non penso ecco che riuscirà ad entrare in top 10 perché penso che sia un po' piccolino, però questo ragazzo nei prossimi anni è da tenere d'occhio. Poi passiamo a quello che potrebbe essere la rivelazione più grande di questo Classic Classic al Ministro Olimpia, ovvero Laszlo Chirali dall'Ungheria che ha vinto lo Sheru Classic a giugno e ora farà il suo primo Ministro Olimpia. Laszlo quando ha vinto a Milano mi ha veramente stupito, ha portato una forma molto buona e è un po' come Chris Bumstead perché ti salta subito all'occhio. È molto alto, sarà un metro ottantotto, è super largo, dorsali molto larghi, clavicoli molto larghi, quindi ti salta veramente all'occhio. Il suo peso limite, pensate, è di 109.9 kg per farvi capire quanto alto è. E' seguito da Patrick Tour, che ringrazio per avermi bloccato su ogni mio social, su ogni mio profilo, senza aver detto niente, senza aver detto nulla di male contro i suoi atleti, quindi ringrazio mille Patrick, un bacione. Tornando però sull'Aszlo, secondo me lui potrebbe anche entrare in top 6. Ci sono un po' di punti deboli che ha, uno su tutti sono le gambe, secondo me, i quadricipiti, che allo Sheru non contraeva. Si dimenticava di contrarre le gambe nel Fondable Bicep e le sue gambe risultavano molto lisce perché non c'era separazione, perché non le stava contraendo. Ha fatto l'intervista con Muscular Development e ha detto che a quest'Olimpia si ricorderà di contrarre le gambe, ha detto che porterà una forma ancora migliore dello Sheru Classic, ancora più definito e con una schiena migliore. E sicuramente l'Aszlo, ripeto, sarà la vera sorpresa di quest'Olimpia Classic Cuisic. Poi, finite le menzioni onorevoli, passiamo alla top 5. L'anno scorso Mike Sommerfield si è classificato quinto. Penso che anche quest'anno si piazzerà di nuovo quinto, a meno che non venga battuto da l'Aszlo. Mike forse è un po' meno classic rispetto a l'Aszlo. Mike infatti viene dalla 212, è un ex 212 ed ha dei volumi molto importanti, ecco. Non è un Classic Cuisic al 100%, però non è neanche così male, ecco. È un po' meno un Classic dagli altri, però comunque rispecchia abbastanza i canoni di questa categoria. E poi c'è la vera domanda di quest'Olimpia. Come si classificherà Terence Ruffin? Questa è una bella domanda e onestamente non lo so. Non lo so come andrà la gara di Terence Ruffin, perché quando ha vinto il Dubai Pro la sua forma era così così. Però poi quando ha vinto il Legion Sport qualche settimana fa la sua forma è migliorata un sacco e secondo me lo hanno aiutato molto le luci. Infatti le luci erano molto buone e lui aveva un colore molto scuro, con tanto lucicante, era molto lucicoso e secondo me ha creato il contrasto perfetto per far apparire ottimo il suo fisico. Non so come saranno le luci all'Olimpia e non so neanche di fatto come si classificherà Terence, però secondo me quest'anno la top 5 la centrerà e forse tornerà anche di nuovo in top 3. Questa categoria è un po' complicata. Poi c'è Brion Ashley che non se ne andrà mai dal Classic music a quanto pare. Ogni anno dice che è il suo ultimo anno in questa categoria, però poi partecipa anche l'anno successivo. È un po' come in The Wolf of Wall Street con DiCaprio, nella scena in cui dice non me ne vado, non me ne vado, io resto qua. Stessa roba con Brion. E dato che hanno aumentato i limiti di peso di questa categoria, Brion gareggerà anche quest'anno e penso per sempre a questo punto in questa categoria. Secondo me con questo nuovo limite di peso, Brion arriverà un po' più grosso, un po' più pieno, però comunque il suo fisico non è quello più classic. Molto strettino di clavicole e ci sono altri molto più classic di lui. Lui era il vecchio parametro dei classic music, 2017-2018. Poi si è capito cos'è veramente classic e lui non rispecchia più questi parametri. Quindi forse lui potrebbe non entrare più in top 5. E dal quarto posto in giù sarà veramente una bella battaglia tra i vecchi atleti come Terence e Mike, quelli nuovi come Laszlo e Carlos e quelli come Terence che devono rifarsi da una brutta figura. Poi passiamo alla top 3, che almeno quella penso sia scontata. Allora, a me Dino Ramon, come ho sempre detto, non piace. Non penso che sia abbastanza classic da vincere il titolo di Mistro Olimpia e non penso riuscirà mai a battere Bumstead. Perché se lo analizziamo, lo mettiamo accanto a Bumstead, non lo batte in nulla. Non lo batte in nessuna posa. L'unica cosa, l'unico distretto muscolare che ha in più rispetto a Bumstead sono le braccia. Ha le braccia più grosse di Bumstead, però per il resto è inferiore in tutto. E io onestamente non lo metterei neanche secondo. Come secondo metterei Urss. Solo che Dino batte Urss perché è un po' più voluminoso. Però secondo me Urss è molto più classic. E infatti io spero che quest'anno Urss batta Dino e che arrivi appunto in top 2 secondo dietro Bumstead. Perché secondo me, se lo merita lui, il secondo posto. Secondo me è molto più classic di Dino ed ha un posing nettamente superiore rispetto a quello di Dino. Dino posa veramente male, mentre Urss ha un posing perfetto. L'unica cosa che manca a Urss è la schiena. Gli manca volume, spessore, larghezza, densità nella schiena. Però per il resto, secondo me, batte Dino. E infine, poi passiamo al King, al Goat. Sibam, che penso vincerà anche quest'anno l'Olimpia, il suo quinto titolo. Quest'anno è un po' più silenzioso rispetto all'anno scorso. Posta meno cose, si vedono meno accenni del suo fisico, della sua condizione. Forse è successo qualcosa, spero di no. L'ho detto anche con Nick Walker lunedì. E il giorno dopo Nick Walker si è fatto male e ha annunciato la sua non partecipazione all'Olimpia. Quindi spero di non portare sfiga anche a Bumstead. Però secondo me vincerà di nuovo l'Olimpia perché è una spanna sopra gli altri. È veramente un dio greco e nessuno si avvicina minimamente a lui. Comunque, fatemi sapere la vostra. Fatemi sapere chi, secondo voi, vincerà l'Olimpia, la Siquisic e la vostra Top 6. E cosa ne pensate anche di queste nuove, di queste new entry che vi ho allencato all'inizio. Fatemelo sapere. Vi chiedo un like, un commento come al solito e ci vedo al nuovo video.